La prima operazione di trading del conto di professione trader è andata a costo, l'ho chiusa con un costo operativo ed è stato lo short sul DAX. Al momento invece sono a mercato, quindi in posizione sempre short, ma questa volta sull'oro con una posizione che al momento sta mostrando un costo di circa 140 euro, non realizzato chiaramente perché sono ancora a mercato. Ben ritrovato in questo appuntamento settimanale, io sono Damiano Zito, price action trader indipendente e membro di questa community ogni giovedì in questo appuntamento. Andiamo a vedere quello che è il mio diario di trading con un conto reale da 10.000 euro che ho aperto come fase esperienziale del percorso di accademia che ho intrapreso in IR Forex. Bene, anzitutto ti ringrazio per aver cliccato play su questo video. Io sono davanti al grafico dell'oro dove appunto ho questa posizione in corso che ho inserito il 25 gennaio. Però prima di vedere quest'operazione, andiamo a vedere l'aggiornamento del diario di trading. Il diario di trading che mostra appunto queste due operazioni, la prima operazione è quella sul DAX, eccola qui, l'operazione short che si è chiusa proprio il 25 gennaio con un costo operativo di 166,90 euro che grazie agli interessi attivi, in questo caso, diventano 164,92. Ho chiuso l'operazione dopo che il 24 gennaio il prezzo è tornato sul livello di 16.800, che se hai visto i video precedenti era proprio il livello spartiacque oltre al quale non volevo vedere delle chiusure daily che invece ci sono state. Detto questo, quindi ecco le note sul diario di trading quando il prezzo è tornato sopra ai 16.800, atteso alla dinamica e poi ho chiuso. Nella stessa giornata ho inserito però un sell stop sull'oro, avevo inserito un ordine a 2011 e il broker mi ha eseguito a 2008-19, c'è stato un momento di mercato veloce, un fast market, quindi mi ha eseguito un pochino più basso come prezzo, un pochino male, poco importa. Quindi 2011, 2008 e 19, quasi 3 dollari di oro che è vista questa size. Siamo poco sotto i 15 euro. Quindi operazione ancora in essere e in questo momento è in drawdown, in costo, insomma, anche se ancora non realizzato. Il riapilio annuale chiaramente mostra un meno 1,6% che è dovuto appunto invece al costo realizzato sul DAX. Detto questo passo al grafico, andiamo a vedere quindi il DAX, andiamo a vedere come mai e perché sono uscito. Allora, l'operazione di trading, io l'ho inserita, andiamo a vedere i video precedenti su, chiaramente venivo da una situazione settimanale che mostrava ormai in quel momento un mercato che sembrava poter dare la possibilità di andare al ripasso. Avevamo un'informazione di prezzo qui, un livello che erano i massimi storici e poi un trigger operativo sul settimanale che era questo, un trigger operativo sul daily nel momento in cui c'è stata questa inside back out, se vogliamo anche doppio massimo lower close. Comunque è stato, diciamo, poi l'ultima conferma di prezzo da parte del mercato che indicava appunto l'idea dello short. Io sono entrato il, vediamolo un po' dal diario, il 16 se non sbaglio, sì, il 16 di gennaio. Il mercato è andato subito dalla mia parte e poi ha recuperato. Ha recuperato proprio il 24 gennaio con questa chiusura, quindi il 24 gennaio, qui venivamo da 1, 2, 3, 4, il quinto giorno bullish, boom, fa un bel rialzo, rompe il 16.800 che era il livello che non doveva per il mio trade andare a oltrepassare, per invalidare chiaramente il mio trade perché il mercato fa quello che gli pare. E il mio progetto prevedeva effettivamente che tra i 16.9 e i 16.8, quindi in questa zona, io avrei chiuso se il prezzo fosse tornato, ci fosse tornato. E effettivamente così è stato, però analizziamo un po' quello che è stato anche il mio processo decisionale, questo in ottica di condivisione ma anche di miglioramento personale, perché io ero entrato appunto su questa dinamica e nel momento in cui chiaramente uno si ritrova, quando ti ritrovi una volatilità contraria sicuramente devi gestire con razionalità. E quindi quello che ho fatto è appuntare anche delle considerazioni che ho fatto sul trade. Questa è la chiusura del 24, io invece ho chiuso il 25 durante la sessione di mercato. Quindi io il 25 mattina già ho fatto delle considerazioni ed erano appunto un po' dei pro e dei contro rispetto a quella che era la mia posizione in essere e quello che mi stava dicendo in quel momento il mercato. Mi sono sicuramente appuntato il fatto che la chiusura aveva praticamente invalidato la mia entry, il mio timing, ed era stato convalidato effettivamente lo swing low del weekly. Swing low che era anche un trigger operativo sempre long del weekly. Andiamo a vedere. Poi mi sono scritto, è stato toccato il T5 dello swing daily del 17 gennaio. Andiamo a vedere. 17 gennaio quindi questo. Ok, effettivamente è così. Quindi sono andato a vedere la dinamica degli swing, ho visto che questo swing aveva un'estensione T5 o 261.8 proprio su, poco sopra, la chiusura del 24. La chiusura qui sopra, nel momento in cui io scrivo questo, che sono in posizione short, probabilmente perché dico va bene, da qui effettivamente può il prezzo ritracciare, però questo è un daily. Ci è arrivato non proprio direttamente, ma quasi, diciamo che in quel momento scatta un po' l'idea che siccome io sono in posizione short e sono su un T5, questo deve fare una cosa del genere. Questa sicuramente è una, un possibile, diciamo, bias che potrebbe essere scattato nella mia mente. Mi sono chiesto, però, entreresti long in questo momento? E ho scritto, attenderei uno swing, almeno su 4 ore, 6 ore. Col senno di poi sul daily, che è poi tra l'altro quello che sto cercando adesso. Però mi sono anche scritto che un ritorno di vola, cioè ho voluto attendere, perché se tornava subito in mattinata una volatilità ribassista che andava un po' a coprire di nuovo questa candela, per esempio qualcosa del genere, short, chiaramente questo 16.8, che era il livello importante, eccetera, sarebbe diventata praticamente in due candele una falsa rottura. Così non è stato, anche se comunque, mi sono detto, rimango in osservazione. Ora, bias a parte, notiamo come effettivamente l'aver posizionato uno stop ampio e lavorare su un time frame più alto, comunque permette anche di appuntare alcune considerazioni personali. Alle 14 mi scrivo che il prezzo è a 16.8, anziché chiudere sposto il mio stop a 16.9. Quindi andiamo a vedere un pochino, vado sul 6 ore. La mattina, quindi 24 gennaio, 24 gennaio, perfetto, ok. Quindi siamo qui, 25 gennaio, 25 gennaio, ci trovavamo, ok, sì, tra, esatto, la mattina è stata ribassista, la candela delle 13 fa questo minimo inferiore al 16.800, quindi probabilmente io stavo più o meno in questa zona quando mi sono detto mi sposto a 16.9, e nel frattempo stavo valutando l'ingresso sull'oro, questo me lo ricordo bene. Però che è successo? Che proprio mentre, dopo aver spostato il 16.9, ho inserito il mio ordine sull'oro e se non sbaglio è stato eseguito nel giro di pochi minuti. In quel momento, siccome è entrata la posizione sull'oro, c'è stato questo ingresso al mercato, ho iniziato ad avvertire che qui effettivamente, anzi ho visto che effettivamente il 16.800 lo stava recuperando molto rapidamente, il fatto che lui potesse in quel momento chiudere così e quindi ritornare a prendere quel 16.900 era molto più probabile a quel punto, quindi ho preferito chiudere. E alla fine, se andiamo a vedere, ho chiuso proprio 16.863, diciamo 864, quindi più o meno qui, ok? Quindi a metà, poco sopra la metà della formazione di questa candela a 6 ore. Poco importa nel senso che comunque era, da questo punto di vista, era nel piano, cioè chiudere tra 16.8 e 16.9, o bene così, quindi non aveva più senso rimanere qui e stare a guardare, anche perché la mattinata effettivamente non aveva sviluppato una volatilità ribassista imminente, quindi non mi dava l'idea più che il 16.800 potesse essersi, diciamo, essere stato rotto in maniera, con un fake, ma anzi poteva ormai diventare un livello di tenuta, almeno nel breve, brevissimo, effettivamente così è stato. Cosa sarà nelle prossime giornate? Non lo so, sicuramente dopo questa settimana, l'idea ormai è long, anche perché, come dicevo prima, la chiusura sopra i 16.8 ha convalidato questo, quindi questo è uno swing low, uno swing low, questa è una pin bar, ma che è anche inside fake out dell'outside bar, quindi qui abbiamo una outside bar, più questa è una inside bar, ok, e questa inside bar successivamente mostra il prezzo una pin bar, pin bar che rientra all'interno di questo range, cioè il minimo e il massimo di questa outside bar, rientra con il corpo all'interno, nel momento in cui il prezzo rompe il suo massimo, convalida la pin bar. Ora, il mercato è andato a rompere anche il massimo, proprio di tutto il setup, di tutto il pattern, quindi diciamo che è completamente convalidata la view long, per quanto mi riguarda. Quindi, dal punto di vista operativo, sul DAX a questo punto attenderò una conferma daily, anche sopra i 16.800, ancora sopra i 16.800 c'è un ritorno, anche così non è infattibile andare a valutare per quanto mi riguarda un long. Detto questo, adesso passiamo un po' sull'altra mia posizione, che è quella dell'oro, posizione che ho inserito appunto il 25 gennaio. L'ho inserito il 25 gennaio, dopo un aumento di vola al ribasso, in una situazione intermarket che stavo seguendo a favore di dollaro americano, nel senso che il mercato, che stava, diciamo, la mia lista operativa, che è questa, mi mostrava un momento in cui effettivamente il dollaro, anche adesso, è forte. Quindi, che cosa è successo? Il 24 gennaio, l'oro mi chiude in questo modo, sotto i 2030, ma, cioè, non basta solo questo, viene un po' da, da un review, che viene dal mensile, che è vero che, un mensile sicuramente long, un mensile che ha toccato il suo T2, che è il 130,90, siamo in zona massimi storici, questa è una zona di vendita, anche se veniamo da questo trend long degli ultimi mesi, e quindi questo forte ribasso, che potrebbe chiamare quello che nel mensile ancora sarebbe un ritracciamento, qui un movimento short più nel breve. Quindi la mia idea più short in questo momento viene da questo tipo di considerazione, quindi da uno studio della zona, diciamo, di vendita dell'oro, e del fatto che c'è stata una price action forte su questa zona di vendita. Però, se andiamo a vedere, io ho venduto praticamente la dinamica dopo questi movimenti, analizziamoli un pochino più da vicino. Cioè, il mercato si sta muovendo nelle ultime giornate in questo modo. C'è stato questo ribasso, poi c'è stato questo rialzo, poi c'è stato questo ribasso. Qui è rimasto inside, qui aveva fatto una... questa tail bar, anche questa in realtà è una IFO, il giorno dopo diventa FTV, quindi questa è un inside, è una pin tail bar inside fake out. non mi piace molto perché la chiusura è alta rispetto, un po' troppo alta rispetto a questa outside bar. Il giorno successivo, questa inside fake out, questa tail bar, viene con questa candela a diventare, quindi questo è un pattern FTV, non bellissimo in termini di volatilità, però parte della strategia, insomma, del nostro metodo di Arduino, Arduino schienato, che però non viene convalidata. Il giorno successivo, il 23, il prezzo che cosa fa? Va sopra il livello, il 2030 non ce la fa a... come dire, a tenerlo in chiusura, e che cosa crea? Crea un ulteriore spike. Quindi il livello e, insomma, questa zona qui, per quanto mi riguarda, erano molto importanti, sono ancora molto importanti perché sono proprio nel breve un livello di vendita. Comunque questa giornata del 24, dove si è visto un pochino su quasi tutti i mercati questo ritorno di forza di dollaro, mi dava l'idea che potesse dare un booster di bassista che non c'è stato, chiaramente. Lo vediamo adesso col senno di poli. Quindi ho inserito un ordine sotto questi minimi, mi ero messo a qui, proprio al 2011. Ho fatto questo ingresso, il mercato però è stato, come dire, ci ha andato velocemente, mi ha seguito un po' più in basso, 2008, 2008 e 19, quindi qui si vede lo spread. e mi ritrovo adesso con questa posizione. Tra l'altro, se andiamo a vedere, io ho venduto una dinamica, non è brutta, però non c'è proprio una bella falsa rottura. Per quanto riguarda lo stop, io ho deciso di settarmi a 2060, che è 2060, sì, è più o meno, ecco, potevo mettermi, in realtà mi potevo mettere 2065, ho preferito il livello tondo, però anche qui col senno di poi, rivedendola il lunedì mattina, non mi è piaciuto molto questo posizionamento, devo dire la verità. Qui potevo tranquillamente mettermi qui sopra, a 2074, a 2075, anche perché, insomma, la volatilità qui non è il massimo, a meno che uno inserisce l'ordine, boom, se non ci va subito, uno o due giorni chiude, non era proprio la mia, il mio trade, di solito cerco dei movimenti un pochino più ampi, però adesso siamo a uno, due, tre, quattro giornate, qui sto dentro, quattro giornate di mercato, quindi, al momento, ecco, quello che andrò a fare oggi, siccome abbiamo violato il 2030, e capire se questo, questa rottura al rialzo, questo test di 2040, porta giù il mercato, oppure effettivamente qui c'è forza. Quindi sarà molto importante per me adesso la chiusura delle 13, e poi vedere come chiude questa sera, perché, insomma, una chiusura bullish forte non è proprio il massimo. Vorrei attenzionare a questo punto, anche perché siamo davanti a un mercato che è quello dell'oro, che potrebbe fare anche 20, 30, 40, 50 dollari al rialzo rispetto a questa chiusura, e effettivamente andare anche verso il 2070 e poi rivedere uno spike importante sul grafico. Quindi, diciamo, questo è il motivo per cui, insomma, volendo rimanere più tempo al mercato, valeva la pena su questa dinamica effettivamente posizionarsi con uno stop, diverso. Però, insomma, adesso seguirò la dinamica. Potrei anche prendere delle decisioni operative, cioè uscire proprio, però adesso vediamo, o, per esempio, una cosa che potrei considerare, io ho cinque mini contratti, per esempio uscire con la metà di questi mini contratti, incassare un costo operativo, quindi pagare un po' questo timing, diciamo errato, e vedere se ci saranno le condizioni per ritornare, diciamo, mettendo di nuovo il rischio iniziale o comunque riaumentare la size, qualora si venisse a verificare un qualcosa del genere, quindi nella giornata di oggi, domani, questo potrebbe essere un'idea. Uscire completamente dal mercato vuol dire in questo momento attendere comunque l'evolversi della situazione, togliere completamente il rischio dal piatto e accettare che è stato fatto un ingresso, non direi sbagliato, però insomma un ingresso che poteva essere fatto, poteva essere migliore, insomma, però ci stava. Andiamo a rivedere un attimo, voglio vedere adesso il 6 ore, ecco, effettivamente, quando ho inserito il 6 ore, qui c'era questa situazione, non è male effettivamente, ora, chiaramente lui è venuto su, però quando ho inserito l'ordine, ecco sì, ci troviamo 25, sì, ci trovavamo più o meno così, quindi un mercato che aveva, ecco, cosa mi stava mostrando? Questo è il 6 ore, però insomma cambia poco, quindi un mercato che stava provando, ha riprovato 1, 2, abbiamo visto nel daily, tre volte, qui ha riaumentato la vola ribassista, il corpo comunque, se visto sul daily era più ampio, io ho messo l'ordine sotto questo minimo, che era quello del 24 gennaio, e il mercato, vabbè, ha fatto quello che abbiamo visto poco fa. Quindi, insomma, questa è la situazione, la sto monitorando da vicino, adesso vediamo, perché effettivamente siamo le 12 e un quarto, oggi è il martedì, quando tu vedrai questo video, sarà appunto giovedì, potrei aver chiuso, potrei rimanere ancora in posizione, quindi appuntamento alla prossima settimana. Però il concetto qui è quello di, diciamo, lo scopo è quello proprio di condividere, anche queste considerazioni, per mostrare quelle che sono le decisioni, le considerazioni che fa un price action trader, quando entra al mercato, quando ha da gestire anche una situazione di questo tipo. Per quanto mi riguarda, quindi adesso, rimango a guardare, e deciderò, deciderò nelle prossime ore, quello che devo fare. Quindi, io per il momento ti ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, ti ricordo che puoi lasciare un mi piace a questo video, per aiutare questa rubrica, il canale anche a crescere, e poi anche, ti invito a commentare qui sotto, facendomi sapere se, per esempio, tu sei in posizione su loro, cosa hai fatto eventualmente sul DAX, cosa avresti fatto diversamente, e come ti comporti tu in queste situazioni. Fammelo sapere, ne discutiamo nei commenti, io intanto ti saluto, alla prossima, ti auguro soprattutto buon trading. Ciao.